la sostanza dell'universo è docile e malleabile e la legge che la governa non ha in sé alcuna ragione per fare del male in quanto che per sua natura è esente da qualsiasi tipo di malvagità dunque non può produrre alcunché di male né vi è cosa che possa ricevere danno per causa sua tutto proviene da lei e si svolge sino al suo compimento non badare se mentre adempia un tuo dovere soffri il freddo o il caldo se caschi dal sonno o hai dormito abbastanza se senti parlar bene o male di te se stai morendo o facendo qualcosa anche morire è un'azione una delle tante di cui è fatta la vita e perciò compila nel miglior modo possibile guarda dentro le cose di nessuna ti sfuggano la qualità intrinseca e il valore tutte le cose ben presto si trasformano e se l'esistenza è sostanzialmente una sola svaporano nell'aria o si disperdono la ragione che governa l'universo sa bene com'è disposta che cosa fa e su quale genere di materia lavora la miglior difesa è non copiare l'avversario in una cosa puoi trovare gioia e appagamento nel passare da un'azione utile alla comunità ad un'altra analoga ricordandoti sempre di dio il principio guida scatta autonomamente prende atto di quel che deve fare si orienta si modifica se lo ritiene opportuno facendo apparire ogni evento quale egli vuole che sia ogni cosa si compie sempre nell'ambito della natura universale se infatti si compisse secondo un'altra natura questa dovrebbe assumerla dall'esterno o trovarsi all'interno di essa oppure separata e indipendente o tutto non è altro che un miscuglio confuso groviglio e dispersione o tutto è unità ordine e provvidenza nel primo caso perché dovrei desiderare di trattenermi a lungo in un simile guazzabuglio casuale e in tale disordine di che altro dovrei occuparmi se non di sapere in quale modo un giorno diventerò terra e perché turbarmi? qualunque cosa io faccia verrà pure per me l'annientamento nel secondo caso non ho che da venerare fiducioso e convinto colui che tutto governa quando ti è proprio inevitabile agitarti rientra subito in te stesso e mantieni il tuo turbamento entro i limiti indispensabili se prenderai questa abitudine potrai riprendere ogni volta il tuo equilibrio e padronezzarlo sempre di più se tu avessi una matrigna e al tempo stesso una madre ti prenderesti certamente cura anche della prima ma ancora di più della seconda bene matrigna e madre sono per te la corte e la filosofia torna spesso a quest'ultima e acquietati in lei grazie alla quale la corte ti risulta sopportabile e tu a tua volta risulti sopportabile a lei noi possiamo avere un'idea ben precisa di ciò che mangiamo quali le cornie e altri cibi del genere solo se ci rappresentiamo nella mente che cosa sono in realtà come a dire questo è il cadavere di un pesce quest'altro di un uccello o di un maiale oppure il falerno è succo di grappoli d'uva la porpora è fatta di peli di pecora intrisi nel sangue di una conchiglia l'accoppiamento non è altro che lo sfregamento di un organo e orgasmica secrezione di un po' di liquido ebbene come ci formiamo queste idee che vanno dritte all'essenza e al fondo delle cose e ce le fanno vedere quali esse sono realmente così dobbiamo fare di fronte alla vita intera mettere cioè a nudo le cose tanto più quanto più ci lusingano vedere se non in fondo la loro pochezza e spogliarle dell'importanza che ostentano esternamente perché la vanità inganna terribilmente e quanto più ti impegni credendo di avere a che fare con cose serie tanto più poi resti deluso vedi a questo proposito ciò che dice cratete di senocrate la maggior parte delle cose che più apprezzano sono di carattere generale o per la loro compattezza e solidità come le pietre e il legname o perché sono frutto della natura quali i fichi, le vite e gli ulivi altre invece di natura animale come le greggi, gli armenti o un gran numero di schiavi sono apprezzate da quelle persone che si tengono per così dire nel mezzo mentre più raffinati preferiscono quegli individui dotati di una mente razionale applicata alla tecnica come gli artigiani, gli artisti o abili comunque in qualche cosa chi poi possiede una mente razionale pura e aperta alla socialità si preoccupa soprattutto di conservare quella sua disposizione agendo in conformità e collaborazione con i suoi simili tutte le cose corrono verso il loro compimento alcune con una tale fretta che sembrano quasi voler anticipare la loro trasformazione ma anche in ciò che vanno diventando c'è un che dispento ormai è da proprio questo fluire e trasformarsi che rinnova continuamente il mondo come l'ininterrotto volgere del tempo rende sempre nuova l'eterna infinità ebbene in questo immenso fiume in cui tutto scorre e nulla si arresta c'è mai una sola cosa a cui si possa dare valore sarebbe come se ci mettessimo ad amare un passerotto che appena l'abbiamo veduto se ne è volato via la vita di ogni essere non è che un fluire di sangue e un'immissione d'aria e tanto vale il singolo atto di ispirare ed espirare unico nella sua duplicità temporale quanto l'intero processo che alla fine restituisce in una sola volta alla sua fonte il respiro di tutta una vita iniziata appena ieri o l'altro ieri ciò che conta non è il traspirare come le piante né il respirare come gli animali domestici o selvatici né il concepire immagini o pensieri o il lasciarsi trasportare dagli istinti muovendoci come dei burattini né il vivere in branchi né il nutrirsi di cibo che in definitiva è un atto analogo a quello dell'evacuazione cos'è che conta dunque? l'essere applauditi? neanche affatto nemmeno a parole allora visto che le grida di plauso della folla sono un fragor di lingue scartiamo quindi anche la gloria cosa resta perciò che abbia valore? per me è importante sapere esprimere e controllare ogni impulso secondo la propria disposizione naturale compresi i moti relativi a tutto ciò che si fa con attenzione e con arte a questo infatti mira ogni arte e attività che cioè la cosa fatta sia conforme al fine per cui è stata prodotta così cercano di fare per esempio l'agricoltore che si occupa della vita il domatore di cavalli e l'allevatore di cani a che mirano l'educazione e l'insegnamento? sono queste le cose che contano e se ne trai buon profitto non hai bisogno d'altro se invece continuerai ad apprezzare tante altre cose non potrai dirti né libero né indipendente né esente da passioni perché diventerai necessariamente invidioso geloso e sospettoso verso chi può togliertele e insidierai chi le possiede e non c'è dubbio che l'essere privati di un bene è causa di turbamento e di lagnanze contro gli dèi mentre il rispetto e la stima per la propria intelligenza rendono l'uomo soddisfatto di se stesso in armonia coi suoi simili e con gli dèi pronto ad accettare qualunque sorte essi gli abbiano riservato gli elementi si muovono verso l'alto in cerchio e verso il basso la virtù non si muove in nessuna di queste direzioni poiché è qualcosa di assolutamente divino e compie felicemente il suo corso procedendo per vie misteriose e incomprensibili quanto è strano e incoerente il comportamento degli uomini snobbano i loro contemporanei e vogliono essere lodati dai posteri che non conoscono e non vedranno mai è come se uno si dispiacesse perché non l'hanno lodato gli antenati se una cosa ti riesce difficile non pensare che sia umanamente impossibile ciò che è possibile confacente all'uomo lo è anche per te se mentre facciamo ginnastica in palestra un tizio casualmente ci graffia con un'unghia o nello slancio ci urta con la testa non per questo ci arrabbiamo o ci lasciamo andare ad espressioni di sdegno né ci viene il sospetto che in seguito possa tenderci insidie cerchiamo di evitarlo, questo è normale ma senza alcun rancore non come se fosse un nemico né lo guardiamo con sospetto ebbene, così dobbiamo comportarci in tutti gli altri casi della vita non dar peso a quegli inconvenienti che ci vengono da chi per così dire si allena insieme a noi perché ripeto possiamo benissimo evitarlo senza mostrarci ostili o diffidenti se qualcuno mi mostra che ho sbagliato nel giudicare o nel fare una cosa sarò ben felice di correggermi perché io cerco la verità e la verità non ha mai fatto male a nessuno cuore cardanno solo a chi persiste contro ogni evidenza nel proprio errore e nella propria ignoranza io faccio il mio dovere e nessuno può distogliermene si tratti di cose inanimate di esseri irrazionali o anche razionali che hanno smarrito la diritta via con gli animali che sono privi di ragione e in generale con le cose e gli oggetti sensibili comportati liberamente e con magnanimità com'è giusto che faccia chi possiede la ragione con chi o con ciò che non ne ha con gli uomini invece usa l'atteggiamento che bisogna avere verso un essere ragionevole che fa parte della società alla quale appartieni anche tu venera sempre di dei e non contare i giorni che ti restano da vivere perché se vivi così ti bastano anche tre ore Alessandro Magno e il suo stagliere ebbero morendo la medesima sorte o furono riassorbiti nel seme che diede origine all'universo o si dispersero in atomi se pensi quanti fenomeni di ordine fisico e spirituale si verificano in ciascuno di noi simultaneamente in un attimo soltanto non ti sorprenderà che un numero di gran lunga maggiore anzi una quantità incalcolabile se ne produca simultaneamente in quell'essere uno e totale che noi chiamiamo Cosmo se ti chiedessero come si scrive Antonino ti metteresti forse a scandirne a voce alta e concitatamente tutte le lettere una per una e se uno sentendoti si arrabbiasse te la prenderesti con lui o non pronunceresti pacatamente una dopo l'altra ogni singola lettera ebbene ricorda che come una parola così ogni cosa che facciamo si compone di un certo numero di frasi osservale dunque nella loro successione e porta a termine il tuo proposito ma senza agitarti e senza rispondere alla collera con la collera quanto è crudele impedire agli uomini di seguire il proprio impulso se sono convinti di fare cosa utile e conveniente eppure tu in un certo senso glielo vieti visto che quando sbagliano ti arrabbi tu dici non è vero che sono convinti di fare cosa utile e conveniente e allora erudiscili mostragli chiaramente come stanno le cose ma senza indignarti la morte è riposo dalle impressioni che riceviamo dai sensi dagli impulsi che ci fanno agire come burattini dagli arzigogoli del pensiero e dalla schiavitù della carne è vergognoso che in certe persone sia l'anima ad arrendersi per prima quando il corpo è ancora nel pieno delle sue forze vada a non darti arie da imperatore perché questo è un vizio comune mantieniti semplice buono integro serio schietto amico del giusto devoto benevolo affettuoso risoluto nel compiere il tuo dovere sforzati di non deviare mai da quel cammino su cui ti ha messo la filosofia onore agli dei poggi aiuto ai tuoi simili breve è la vita unico frutto della nostra esistenza terrena sono l'osservanza della legge divina e l'agire per il bene comune comportati in tutto come un discepolo di Antonino Pio ricordati il suo fermo proposito di agire sempre secondo ragione con la coerenza in ogni occasione la sua devozione religiosa la serenità del suo volto la sua dolcezza la sua modestia il suo vivo desiderio di apprendere e di comprendere rammenta che non tralasciò mai una questione senza averla prima esaminata a fondo e ben capita che accettava le critiche ingiuste senza criticare a sua volta che non faceva nulla affrettatamente e che non tollerava le calunnie ricordati con quale acutezza giudicasse i fatti e le persone e come fosse alieno dalle offese dalle paure dai sospetti e dai ragionamenti capziosi come si accontentasse di poco per ciò che riguardava l'alloggio il letto e il vestiario il cibo e il servizio domestico quali fossero la sua laboriosità la sua tenacia la sua capacità di lavorare fino a sera grazie al suo pasto frugale senza la necessità di soddisfare i bisogni del corpo se non allora consueta quanto fosse saldo e costante nelle sue amicizie tollerante con chi apertamente lo contraddiceva felice quando qualcuno gli suggeriva idee migliori delle sue devoto agli idee ma senza un filo di superstizione ricordati tutto questo affinché così possa trovarti quando sopraggiungerà la tua ultima ora con una coscienza pura e tranquilla come la sua ritorna in te riprenditi dal sonno e quando ti sarai reso conto che ciò che ti turbava era solo una chimera guarda la realtà con gli stessi occhi con cui guardavi il sogno sono un misto di corpo e di anima per il corpo le cose sensibili non sono né buone né cattive perché la materia non ha il potere di coglierne la differenza per la mente invece sono indifferenti le attività che non rientrano nella sua sfera d'azione mentre quelle che dipendono da lei sono tutte sotto il suo dominio anche queste però la interessano solo in rapporto al presente perché quelle relative al futuro e al passato le sono in quel momento indifferenti come la mano e il piede non fanno nulla che sia contrario alle leggi di natura almeno finché entrambe assolvono alla loro specifica funzione così la fatica per l'uomo in quanto tale non va contro natura fin tanto che così la fatica per l'uomo così la fatica per l'uomo in quanto tale non va contro natura fin tanto che egli svolge le funzioni proprie dell'uomo e se non va contro natura non è neppure un male quali grandi piaceri provano i delinquenti i dissoluti i parricidi i tiranni non vedi come chi pratica un mestiere pur adeguandosi in qualche misura ai gusti dei profani si attenga tuttavia ai principi della propria arte e non accetti di allontanarsene non è dunque strano che l'architetto e il medico abbiano per il loro proprio mestiere un rispetto maggiore di quello che l'uomo nutre nei confronti della ragione che la comuna gli dèi rispetto all'universo l'asia e l'europa non sono che due cantucci tutto il mare una goccia il monte atos una piccola zolla l'intero tempo presente un attimo di eternità tutto è piccolo e instabile e di legua in un baleno ogni cosa proviene da un principio direttivo comune direttamente o indirettamente come conseguenza così le fauci del leone il veleno e tutto ciò che fa male come le spine e il fango sono prodotti accessori di quel principio venerabile e bello non pensare quindi che esistano cose estrane a ciò che è oggetto della tua venerazione poiché tutto proviene da un'unica sorgente chi dunque ha visto la realtà presente ha visto tutto quello che è stato e quello che sarà da eternità a eternità poiché una è l'origine e una è la specie di tutte le cose soffermati spesso a considerare i legami e i rapporti che intercorrono fra tutte le cose dell'universo i quali in questo loro intrecciarsi e corrispondersi reciprocamente sono tutte solidali poiché ciascuna è conseguenza di quella precedente in virtù del moto di tensione dell'armonia e dell'unità della sostanza stessa adattati alla sorte che ti è toccata e ama sinceramente le persone con cui ti è dato di vivere ogni strumento arnese o utensile che sia se compie il lavoro per cui è stato fabbricato è buono e funziona indipendentemente dalla presenza del suo costruttore ma ciò che è governato da un principio naturale ha una sua forza implicita e permanente quindi a maggior ragione devi rispettarlo e se conformi il tuo comportamento a quel disegno interiore tutto andrà come desideri tu così è per l'universo ogni cosa accade secondo i suoi piani è inevitabile che quando ci capita un male o ci sfuggia un bene per cause indipendenti dalla nostra volontà rimproveriamo gli idee e odiamo gli uomini ritenendoli responsabili del danno o dell'insuccesso che ci è toccato certo di fronte a casi di questo genere non possiamo restare indifferenti ma commettiamo un'igiustizia perché riversiamo sugli altri i concetti di bene e di male i quali invece sono relativi unicamente alle cose che dipendono dalla nostra volontà sicché non abbiamo ragione di prendersela né con gli uomini né con gli dèi tutti collaboriamo a un unico fine quali con luci da coscienza quali inconsapevolmente e come dice Eraclito anche dormendo lavoriamo e contribuiamo a tutto ciò che accade nell'universo chi in un modo chi in un altro e persino chi critica gli eventi o cerca di contrastarli ed impedirli poiché il mondo ha bisogno anche di gente simile a te tocca solo decidere con chi andare e colui che regge l'universo saprà bene come utilizzarti accogliendoti fra questi o quei suoi collaboratori tu però bada a non assumere la parte di quel verso sciocco e ridicolo citato da Crisippo forse che il dio sole pretende di svolgere il compito del dio della pioggia o a sclepio quello della frugifera dea e che dire dei singoli astri pur essendo uno diverso dall'altro non collaborano tutti al medesimo fine se il mio destino e tutto ciò che deve accadermi dipendono dagli dèi la loro decisione non può essere che buona perché una divinità sconsiderata è un controsenso e poi perché dovrebbero farmi del male quale vantaggio potrebbero trarne per sé e per il bene comune visto che essi proprio di questo si curano ma anche ammesso che nulla di particolare abbiano deciso e decidano per me sul piano specifico e individuale essi hanno sempre come fine il bene dell'universo e in questo caso io devo accettare di buon grado tutte le conseguenze che da quel bene possono derivare a me personalmente se poi gli dèi non decidono nulla ma crederlo sarebbe un'impietà e allora dovremmo smetterla di fare sacrifici pregare giurare e compiere altri riti in loro onore convinti appunto della loro esistenza e della loro presenza fra noi se insomma non hanno niente a che fare con noi ci resta sempre la facoltà di decidere e di cercare quel che ci conviene ma quel che conviene a ciascuno è ciò che è conforme alla sua disposizione naturale e la natura dell'uomo è portata a ragionare e a vivere in società io come Antonino ho per mia patria Roma ma come uomo ho il mondo per me dunque è bene solo ciò che giova a queste due città ciò che accade a ciascun individuo è utile all'universo intero già basterebbe questa verità ma se si riflette attentamente si vedrà come ciò che è utile ad un uomo lo sia anche a tutti gli altri intendendo utile in senso generale cioè riferito alle cose che di per sé non sono né buone né cattive come gli spettacoli dell'anfiteatro e di altri luoghi simili finiscono con l'annoiarsi perché vi si vedono sempre le stesse scene e la ripetitività ci sazia fino alla nausea così dobbiamo provare lo stesso fastidio per la vita intera poiché anche qui si ripetono le medesime scene e situazioni riconducibili tutte alla medesima origine fino a quando pensa quanti uomini sono morti d'ogni tipo d'ogni mestiere e d'ogni razza e arriva sino a Filistione Febo e Origalione passa poi alle altre schiere o categorie trasferendoti là dove stavano tanti valenti oratori tanti autorevoli filosofi come Eraclito Pitagora Socrate e prima di loro tanti eroi poi tanti condottieri quindi tanti tiranni e poi ancora altri personaggi quali Eudosso Ipparco Archimede e ingegni acuti magnanimi laboriosi intraprendenti orgogliosi dispregiatori di questa vita effimera e mortale come Menippo e gli altri simili a lui bene pensa che tutti costoro sono da tempo morti e sotterrati e che in questo per loro come per quelli di cui non resta nemmeno il nome non c'è alcunché di spaventoso dunque finché viviamo conta solo una cosa agire sempre secondo giustizia e verità tollerando gli ingiusti e i bugiardi quando vuoi stare allegro pensa ai pregi delle persone che ti stanno accanto come la vitalità la riservatezza la generosità e così via nulla infatti allieta tanto il nostro animo quanto l'esempio delle virtù che appaiono nei caratteri di coloro che ci circondano specialmente quando ci accade di coglierle per quanto è possibile tutte insieme teniamoli dunque sempre a mente questi esempi come non ti preoccupi se pesi un certo numero di libre invece di 300 così non inquietarti se devi vivere un determinato numero di anni e non di più se infatti sei pago della quantità di materia che ti è stata assegnata devi esserlo anche del tempo cerca di convincere gli altri della bontà delle tue azioni ma quando la ragione della giustizia lo imponga agisci anche contro il loro parere se però qualcuno ricorre alla forza per impedirtelo sta calmo e rassegnati non te la prendere e utilizza quell'impedimento per esercitare una virtù diversa ricordandoti che sei stato condizionato dalle circostanze e che ad impossibilia nemo tenetur qual era del resto il tuo scopo andare in quella direzione dunque una meta l'hai raggiunta è quello il risultato chi cerca la fama crede che quel bene derivi dall'influenza altrui chi ama il piacere lo trova nelle proprie passioni chi ha senno nelle proprie azioni su certi fatti è possibile non avere alcuna opinione e di conseguenza non subire alcun turbamento le cose infatti di per se stesse non sono per natura tali da produrre giudizi abituati ad ascoltare con grande attenzione ciò che dicono gli altri e cerca di penetrare quanto più possibile nell'animo di chi parla ciò che non giova allo sciame non giova neppure alla singola ape se i marinai criticassero il timoniere o immanati il medico dove penserebbero di approdare come potrebbero il primo a portare in porto incolumi i passeggeri il secondo guarire i malati quante delle persone con cui sono entrato nel mondo se ne sono già andate agli itterici il miele sembra amaro agli idrofobi fa paura l'acqua e ai bambini piace la palla perché dovrei indignarmene forse che l'errore produce a minore effetto di quanto ne ha la bile sul diterico o il veleno sull'idrofobo nessuno potrà mai impedirti di vivere secondo le leggi della tua natura e nulla potrà mai accaderti che sia in contrasto con quelle della natura universale che tipo di gente è quella a cui si vuol piacere e quali i mezzi e le azioni attraverso cui si cerca di riuscirvi come rapido il tempo cancellerà il presente e quante cose ha già spazzato via l'acqua Grazie a tutti